Ma sempre dalla giustizia barese arriva anche qualcos'altro. Dopo sei mesi ci sono le motivazioni della sentenza di condanna avvenuta sei mesi fa nei confronti di Tarantini e Sabina Began. Erano imputati per le famose feste, cosiddette cene eleganti a casa di Berlusconi. Perché ne parliamo? Perché le motivazioni parlano di qualcosa di particolare, perché descrivono nei particolari cosa era secondo i giudici il clima di quelle cene. Cene poco eleganti vengono definite in cui le ragazze che partecipavano beneficiando della costante, beneficiava Berlusconi, della costante imprescindibile presenza di avvenenti provocanti, disinvolte, spregiudicate, disinibite e soprattutto giovanissime donne che volevano dare una svolta alle loro talvolta a dir poco modeste vite. Ora, questo discorso è già stato fatto nei giorni scorsi, ma al di là della sentenza che probabilmente è perfetta, anzi diamo per scontato che lo sia, che bisogno c'è di tutta questa aggettivazione insultante nei confronti di persone che, se non sbaglio, non sono state neanche condannate, neanche portate a processo? È una valutazione morale che con una sentenza, con una sentenza penale, non dovrebbe avere nulla a che fare. E tanto per intenderci, non sappiamo neanche chi fossero queste ragazze, ma è un elemento che salta all'occhio di questa così dura e forte motivazione della sentenza.